Salve a tutti e bella gente, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Manziarimia e oggi siamo qui in questo nuovo video per andare a scoprire la terza sorpresina del nostro calendario dell'avvento pandoroso. Se vi siete persi gli scorsi video ho creato una playlist apposta che vi lascio qui così potete recuperarli. Quindi senza induggiare oltre andiamo a scoprire cosa si cela nel nostro terzo pacchettino. E' un charmino, ovviamente. Siete pronti? Ta-da! Il sacchettino dello shopping dei Pandora, old ovviamente. Vi avvicino, questo è un altro charm iconico di Pandora che io ancora non avevo. Come potete ben notare anche questo è un charm che ho preso usato perché ormai fuori produzione, anzi esistono diverse nuove versioni della bustina dello shopping pandoroso. Però questa è una delle prime, se non forse la prima, è quella che mi piace tra l'altro di più su tutte. E' appunto una busta dello shopping Pandora, qui potete vedere che è un charmo filettato, quindi bello pieno con la filettatura. Qui c'è Ale, punzonatura, e qui c'è S925 da quest'altro lato. Il fiocchettino è a specchio, quindi per esempio da questo lato pende di più, come potete vedere. Di qua invece pende più da quest'altro lato. Qui no, mi piacciono un sacco i dettagli che ha questo charmo. La busta, come potete ben vedere, sembra qui scavata. Come se fosse una vera e propria busta, c'è il nastrino che passa per chiudere i due lati, le pieghette qui, ma anche il manico così fatto torsion. E' molto molto carino, mi piace davvero tanto. Poi l'ha scritto ovviamente Pandora con la coroncina. Di qua la R è un po' più usurata, perché si vede che la persona che lo utilizzava prima c'aveva qualcosa che ci andava a sbattersi un po' levigato, insomma. E' un po' sparita. E' un charmo veramente carino e ben fatto. Anche i dettagli, vedete, della piega al centro, sul nastro del fiocco, il collegamento come dicevo prima, la busta che è un po' scavata, che dà la sensazione appunto di una vera e propria shopping bag. E' fatta benissimo, è un charmo veramente molto molto ben fatto. Mi piace da impazzire, fatemi sapere se anche voi lo avete o se comunque è un charmo che vi piace. Io vi do appuntamento a domani con il prossimo video. Ciao! 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 Ciao!